Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo video, andiamo se il microfono va, yes, lista contatti e lavoro offline. Allora, prima di andare avanti, solite cose, ragazzi, cliccate like, pollicione su, sono bello, e tutte queste cose qui in descrizione trovate delle cose interessanti. Chi sono? Sono Simone Rossi, sono un agente immobiliare da 21 anni, ma soprattutto sono stato premiato una moltitudine di volte come primo team in Italia della Remax per fatturato prodotto, eccetera, eccetera, eccetera. Aiuto centinaia di agenti immobiliari, se non migliaia, a ottenere risultati tangibili e concreti sul campo, e oggi sono qui perché tra le domande più classiche mi fanno è, ma devo fare l'online o devo fare l'offline? E allora a questo punto ci facciamo un bel video, ho fatto un po' di appunti così non mi dimentico niente e andiamo avanti. Vi dico subito, la risposta è che bisogna fare entrambi, per cui bisogna avere un sistema di marketing che mixi l'online e l'offline. Quali sono i motivi? Sono sostanzialmente tre i motivi per cui non va bene andare solo online. Allora, il primo motivo è il seguente. Tendenzialmente ancora oggi chi vende un immobile può avere un'età che non ha, per cui, età target, che può essere, poi probabilmente al prossimo cambio generazionale non ci sarà più questo tipo di problema, ma non è sui social, non è online, eccetera. Per cui se c'è una signora che è morto il marito e ha 81 anni e magari non ha figli, eccetera, questa signora non la becchi con l'online. È molto difficile, non è impossibile, però non la becchi con l'online. Però, detto questo, questo è solo un esempio. E ci sono degli altri motivi per cui, secondo me, è fondamentale, assolutamente fondamentale, concentrarsi sull'offline. Allora, io sono un fanatico della carta, ve lo dico francamente. Se potessi girare, vedete tutti i libri, non ho mai comprato un ebook in vita mia, perché a me piace toccare le cose, ok? Però, sostanzialmente, non è così sbagliato essere un fan della carta, perché il digitale ha dei difetti, ha delle grandi criticità che adesso vi spiego. Allora, criticità lo scriviamo. Allora, la prima criticità del digitale, ok? Che implica un'azione, azione del prospect. Vi faccio una ipotesi. Io, soprattutto, il cartaceo, l'offline, lo utilizzo per la lista contatti. Persone già che mi conoscono, centri di influenza, clienti passati, che hanno fatto operazioni con me, con cui io rimango in contatto con loro, quello che nella quarta fase del marketing si chiama educazione ripetuta, ok? Per cui, come rimango in contatto, io posso mandargli della roba online, o posso mandargli anche della roba offline, per cui del cartaceo. Qual è la cosa? Che quando tu invi una mail, o mandi comunque un link, questo preclude il fatto che il prospect faccia un'azione per accedere poi dopo a quel contenuto, per andare a vedere quella determinata cosa. Cioè, immagina, ti arriva la mail, puoi decidere di non aprirla, e se la apri di non cliccarci, ok? Per cui il fatto che implichi un'azione parte anche da un concetto di base che la gente non ha voglia di fare più niente, perché è bombardata da quella roba lì, per cui, mentre una mail dieci anni fa l'aprivano più o meno tutti, oggi sanno che nel 99% quella mail, se non l'apre, non muore nessuno, ok? Per cui il fatto che implica questa roba qui, un'azione, rende, per darti un'indicazione, una mail mediamente viene aperta, poi dipende i casi, dall'1 al 5-6% delle persone, nelle grandi liste. Per cui, ragazzi, stiamo parlando di perdersi più del 90% delle potenziali persone che aprono una mail o cose comunque analoghe. Quindi questo è un po' un problema, capite? E il secondo problema, invece, è il fatto che non sei in un ambiente protetto. Se tu guardi una mail, un messaggio, una mail, un link che ti arriva da qualche parte, dal cellulare, dal pc, eccetera, eccetera, tu sei costantemente, hai un mouse in mano, uno schermo che ti muove, ti agiti, e a quel punto è molto facile che ti arrivi la notifica, la apri, e allora dici, lascia stare, ci guardo dopo, poi non ci guardo più, oppure vieni distratto da quell'altra cosa, oppure ti chiamano al telefono, mille situazioni che ti mettono in uno stato di dire, non sono sereno nel guardarmi la cosa e nessuno mi disturba, non so se mi spiego, ok? Sei in un ambiente, banalmente, anche solo il tuo sito, mandi il link del tuo sito online, è chiaro che sei tu su internet dove ci sono anche tutti i concorrenti, ragazzi, per cui è una continua guerra all'attenzione della persona, lavorando solo sull'online. Io non sto dicendo di non farlo, ragazzi, io vi sto dicendo che non si deve fare solo quello, ok? Non si deve fare solo quello, soprattutto nella gestione magari della lista dei clienti passati ai centri di influenza, ok? Per cui, ribadisco criticità, implica le persone a fare un'azione, a aprire il computer, a scaricare la mail, e l'aprire la mail e cliccare sul link. Quattro passaggi, ok? Implica il fatto che nel momento in cui tu sei online e tu sei continuamente distratto, disturbato, sei iper-eccitato perché puoi avere il controllo di tutto, ti viene in mente qualcosa, cambia, eccetera, eccetera, e alla fine è difficile mantenere l'attenzione su quel contenuto che vuoi fargli vedere tu, ok? Quindi questo è assolutamente importante. La mente saltella quando sei online, è la verità. Il terzo aspetto invece, importante, è perché invece conviene farlo. Allora, immagina che ti arriva a casa una bella busta, una bella busta affrancata, con il tuo nome e cognome, nome barra cognome, il tuo indirizzo, indirizzata proprio a te. Una bella busta grande, ok? In quanti l'aprono? Possiamo dire 90%, 95% l'aprono, ragazzi. Perché anche il senso di aprire è quell'istinto primordiale, è la verità, non vi sto raccontando delle cose, di quando eri bambino un po' della scoperta, ok? Dello scarcare un qualcosa, per cui la busta la apri. Questa è la verità. Per cui la apri, hai la tua bella rivista, la tua bella newsletter, che magari in quel momento sei impegnato, però è difficile che la butti. Parlo del... Tipo, adesso non ce ne ho una qui, una cosa... Vabbè, questa è degli agenti, ma l'abbiamo anche per tutti i nostri clienti dell'immobiliare. Ecco, è una bella cosa. Sicuramente fai fatica a buttarlo, perché ci sono delle informazioni che sono interessanti. Ma detto questo, se sei impegnato, la metti magari sul tavolino, non la butti via. E quindi a quel punto rimane lì. Oppure la metti sul comodino, se la apri, se sei sul letto, ok? Oppure comunque lo tieni in un punto che è lì. Hai invaso il territorio del prospect. Ed è chiaro che questa è una cosa completamente diversa rispetto a mandare una mail. Cioè, come vedete, l'azione è automatica qui, ok? Non devo fare quattro cose, devo prendere la busta e aprirla. E la busta la apri. Sempre. Perché non manda più nessuno poi buste grandi a casa, se ci pensiamo bene. L'altro aspetto che è molto importante per cui farlo è che i prospect sono fuori, sei in un ambiente protetto e sei magari in bagno che leggi, ok? E a quel punto sei tu e la tua rivista. Non può intervenire qualcun altro. Sì, ti può rompere le balle tua moglie, tuo marito, eccetera, eccetera, ma chiaramente hai meno distrazioni. Hai la testa che ti saltella in meno parti rispetto ad essere davanti a un pc. Per cui ragazzi, il tema dell'offline è un discorso estremamente importante che nessuno sta facendo più e questo è un gravissimo. Allora, c'erano delle statistiche che parlavano di quanto è efficace questa roba qui e è chiaro che la grande differenza è che ti costa di più rispetto all'online oggi, magari. importante, però nel momento in cui io vado a coltivare una lista clienti, clienti influenza, centri influenza e clienti passati, il fatto di mandare magari ogni tre mesi una rivista cartacea abbinata anche a tutte le cose online, per l'amor del cielo, non sto dicendo, ma l'abbinamento fa in modo di andare sostanzialmente a creare quella sorta di ecosistema di marketing che ti fa girare sempre intorno il prospect e il prospect ha sempre in mezzo in testa il tuo nominativo o se ha poi dopo qualcuno che magari dici voglio vendere e lui dice no, ferma, c'è Simone, guarda la rivista ce l'ho qui magari a casa e cambia tutta la vita questo tipo di approccio, ok? Per cui ragazzi, cos'è meglio online-offline? È meglio un bel mix, marketing mix, online-offline, queste sono un po' tutte le cose che secondo me sono importanti, che vanno, non dico a discriminare l'online, ma lo rendono non unico, cioè non deve essere l'unica cosa e questi sono i motivi in cui invece fare qualcosa di offline che arriva a casa, la carta, eccetera, fa sempre piacere, ok? Per cui vi ho detto tutto, vi ho fatto lo schemino, girato un po' per la fine, i concetti sono questi. Link in descrizione, iscrivetevi al canale, ci sono un sacco di video interessanti che sono usciti e stanno uscendo, link in descrizione c'è anche una cosa interessante, dacci un occhio e al prossimo video. Ciao ragazzi!